Prego la regia a questo punto di mandare il video di Gianmarco Montanari che è direttore generale IIT, scusate, consigliere indipendente di Fineco Bank, Tinexta, vediamo. Buongiorno a tutti, sono Gianmarco Montanari, sono generale direttore di IT, l'istituto italiano di tecnologia, non eseguti direttore di Fineco Bank e Tinexta. Porto oggi agli award un progetto molto attuale e innovativo sull'analisi e sviluppo di sistemi atti alla predizione e alla mitigazione di attacchi di social engineering. Negli ultimi anni computer e smartphone sono diventati sempre più indispensabili nel nostro lavoro, nella nostra interazione sociale fino al nostro semplice svago. Questo ha favorito la diffusione di attacchi di social engineering, ossia l'utilizzo di tecniche psicologiche e di interazione sociale per indurre o manipolare un individuo a lasciare le proprie credenziali, trasferire denaro o in generale a compiere un'azione che non aveva intenzione di svolgere o piuttosto che fosse di interesse dell'attaccante. L'obiettivo è duplice, è stato duplice, sviluppare un sistema di difesa focalizzato sull'umano e sul suo comportamento durante l'attacco e dall'altra parte studiare come un robot sociale umanoide, in questo caso il nostro ICAB, possa supportare proattivamente la vittima contro gli attacchi di social engineering. Abbiamo quindi sviluppato un sistema di intelligenza artificiale attraverso cui siamo in grado di capire con una precisione superiore al 78,7% quanto un individuo sta mentendo. Facendo quindi riferimento alla vittima siamo in grado di capire con una precisione superiore al 74% se l'individuo sta percependo una situazione di rischio e con una precisione dell'80,5% se sta subendo un attacco di tipo social engineering. È un piacere quindi essere qui a CEO4Life, a Wals, per condividere un'eccellenza del pensiero e della ricerca italiana e la sua pratica utilizzabilità. Allora vorrei ringraziare Gianmarco Montanari per il suo intervento e se la regia mi dà l'ok, a questo punto inviterei a salire sul palco Giordano Fatali per la premiazione, questa volta non ce l'abbiamo collegato. E se è ancora più in contumacia. Ah però lo abbiamo via streaming. Ah ci abbiamo? Ok lo salutiamo, ci ascolta via streaming. Montanari ci sente? Cogliamo l'occasione anche per ricordare che siamo in diretta streaming su LUIS Social TV. Eccolo sicuramente. Ecco il premio. Perfetto, grazie mille e a presto. Ringraziamo l'ingegnere Montanari anche per il suo intervento.